È momento di confessioni dolorose al GFVIP. Strano però quando arrivano da una come Francesca Cipriani. Siamo abituati a vederla ridere, scherzare, ai limiti del trash. Raramente ci capita di vederla con il dolore in volto e le lacrime agli occhi, quelle sincere di dolore. Durante la giornata dell'11 novembre, Francesca si è appartata in giardino con Carmen Russo e Manila Nazaro e ha raccontato della sua malformazione. La gente giudica e non sa tante cose. Sul mio aspetto ne dicono di tutti i colori, ma io ho sofferto moltissimo. Ad esempio, avevo una brutta malformazione al seno e da lì ho iniziato a ritoccarlo. Proprio il mio medico mi aveva consigliato di rimediare a quella malformazione e mia madre era d'accordo. Ho passato anni non belli, ma ora sono felice. Ho l'amore e sono molto contenta. La mancanza della figura paterna per lei è stato un grosso problema. Ecco perché adesso è legata tantissimo al suo fidanzato Alessandro. Mi auguro che la storia duri. È un bravissimo ragazzo e Francesca è serena con lui. Anche quando la vedete piangere, gridare, desiderare la sua presenza. È perché davvero lo ama alla follia e ha paura di perderlo. Adesso sta superando questi traumi piano piano.